Anche se non sembra, sto davvero molto male. Tutta la mia vita personale è andata in pezzi. Non avrei mai voluto sottrarmi all'invito di Alana, però ho deciso di non andare a Pioneer Town perché non ero nella condizione mentale di stare con altre persone a parte Grishel. Mi riprenderò. È l'unico aspetto positivo di questa storia. So che mi riprenderò. All'inizio ho pensato, non è possibile che mi abbia fatto questo. Hai già parlato con lui? No. Scusa, non avrei voluto piangere. No, tranquilla. È dura.